La malattia di Parkinson è una patologia neurodegenerativa lenta e progressiva caratterizzata da diversi sintomi, da quelli motori a quelli cognitivi fino ad arrivare ai disturbi anche legati all'umore, quindi ansia e depressione. Diversi possono essere ad esempio gli strumenti a disposizione del paziente per alleviare i sintomi che caratterizzano questa patologia. Uno degli strumenti a disposizione dei pazienti con malattia di Parkinson è NIR, strumento di fotobiomodulazione che utilizza una specifica luce nel vicino infrarosso grazie ai 256 LED posti al suo interno. Questo strumento è utile per andare a trattare tutti i sintomi che riguardano gli aspetti motori della malattia di Parkinson e anche quelli cognitivi. In questo video vedete una paziente affetta da malattia di Parkinson che mostra i sintomi relativi proprio alla difficoltà nel cammino. Infatti vedete che si fa aiutare come appoggio da un bastone per quanto riguarda anche i disturbi dell'equilibrio che presenta e ha difficoltà nella rotazione, quindi nel muovere il suo corpo per andare ad indicare una direzione diversa. Dopo trattamento con NIR questo sostanzialmente è il risultato. Nella stessa paziente potete vedere che migliora il cammino, il cammino non è più aiutato dal bastone, la signora è anche meno curva su se stessa, ha una posizione più retta e quindi ha anche un migliore equilibrio e aumenta anche la capacità di rotteare su se stessa. In più viene riferito dai familiari un miglioramento in quello che è il sonno e la capacità di attenzione. Questo strumento di fotobiomodulazione NIR è presente attualmente in 17 centri in Italia. Se volete sapere quali sono i centri NIR più vicini a voi potete andare sul nostro sito e in generale potete andare a vedere la pagina dedicata alla fotobiomodulazione per saperne di più sulla metodica.